Cari abruzzesi, guardate che sta passando un treno che non potete perdere. Non potete perderlo. Avete un candidato presidente che è una meraviglia. Dopo 14 anni l'ex segretario del PD Pierluigi Versani torna a Lanciano in chiusura della campagna elettorale a sostegno dei candidati del campo largo e del candidato presidente Luciano D'Amico. Accanto a lui gli stessi volti, con le stesse speranze e la convinzione che la spallata sia possibile. A fare l'ago della bilancia, come spesso accaduto nelle ultime tornate elettorali, gli indecisi. Mai da tante elezioni che sono quelli che sono di traverso per tanti giusti motivi, per l'amor di Dio, che devono capire che... Insomma, marzo è tempo di migrare. E' tempo di migrare, è tempo di andare a votare. Stavolta bisogna andarci, perché siamo al pelo, siamo al pelo. E di solito ci insegnavano gli sprinter, come Maspes o Gagliardoni, che chi è in rimonta ha un punto di vantaggio, ha una forza in più, ha una spallata in più. E noi ci crediamo in questa spallata. Questa è l'occasione giusta per iniziare il cambiamento, ha detto. D'Amico è una meraviglia. Io ho fatto 16 anni in una regione, non delle ultime. E credo di capire chi può essere davvero un buon Presidente. Perché un buon Presidente deve crederci, deve credere che davanti a un problema di salute non c'è né povero né ricco, che il territorio ce l'abbiamo in prestito dai nostri figli, che l'impresa e il lavoro devono stare in piedi tutte e due, innovare tutte e due per mandare avanti una realtà formidabile come quella con Sese. C'è un'occasione qui che francamente sarebbe un delitto perderla per questa regione.